ecco ora sì che perfetto vediamolo p 92 del gabbiano virata eccolo qua eccolo qua riduciamo un pochino la manetta eccola qua abbiamo la manetta professionale molto bene abbiamo anche la pedaliera ecco qua e ora possiamo dire che è veramente un simulatore completo mettiamo un po di flap ecco qua il flap via il motore eccolo qua e giù cerchiamo dove la pista qui c'è il metauro e qui c'è la costa molto bene e qui c'è il metano ecco qua e qui c'è il metano Grazie.